prova 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 parte parte bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questo nuovo video lunedì lunedì mercato in verde per quanto tempo durerà che cosa sta succedendo andiamo a riaggiornare tutti i grafici perché ci sono delle cose importantissimi da farvi vedere nella scorsa settimana vi ho mostrato anche quello che era una situazione un po' delicatuccia su alcune criptovalute nel video sabato video special perché non ero stato bene venerdì e ragazzi vi ho fatto vedere anche la questione del CRO ancora una volta i grafici hanno avuto ragione perché proprio come in quel video lì che vi mostrava nel video di sabato indicavano la debolezza un po' strana anche per la cripto di cripto.com e poi scatafascio nella giornata del primo maggio dopo l'ennesimo aggiornamento di quelli che sono i livelli del cashback di cui probabilmente ragazzi alcuni saranno anche rivisti ma comunque non è un atteggiamento strano ne parliamo in questo video perché vi dico anche un po' l'esperienza perché molti di voi magari conoscono cripto.com da un annetto ma noi la conosciamo da 4-3 anni più o meno quanto sono e non è nuova a questi tipi di atteggiamenti quindi sapevamo più o meno sappiamo che fa alcune cosette di questo tipo giusto non giusto l'effetto del CRO è stato brutto nei primi giorni ma poi magari migliora dopo lo parliamo anche in questo video facciamo un piccolo briefing e quindi analisi ciclica bitcoin dove stiamo dove stiamo andando analisi ciclica e tecnica della total market cap della DeFi perché è arrivata al livellino drasticamente complicato e poi ragazzi andiamo a vedere CRO che cosa sta facendo ha bucato il minimo dell'annuale quindi fatevi un po' due conti tutta la situazione anche in generale la andiamo ad analizzare Nasdaq 100 ancora non tira su il suo prezzo quindi ancora non c'è una fase di ripresa ma 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 scillone per quanto riguarda invece i servizi di trading on ragazzi perché domani a parte un super webinar di una strategia che è anche realizzata e messa in uno dei miei corsi di formazione perché questa strategia la mostro domani in webinar privato trovate il link in descrizione per registrarvi al webinar questa strategia la mostriamo lì perché è utilissima nel momento in cui andiamo a fare a vivere proprio queste situazioni di mercato orso imperdibile quindi ragazzi il webinar di domani domani martedì 3 maggio alle ore 6 e 30 quindi 18 e 30 ragazzi vi registrate questo il link che trovate in descrizione c'è una breve descrizione anche della strategia del spread training che andremo ad affrontare alcuni di voi probabilmente trader professionisti la conoscono ma darò anche delle tips molto rilevanti anche in questo tipo di di webinar ragazzi e ne parleremo anche nei prossimi video di questo tipo di strategia perché le ho implementate due mesi fa circa e stanno anche entrando nella mia academy ci saranno anche novità per quanto riguarda questo tipo di strategia nell'academy proprio perché sono utili in un mercato sempre più indirizzato mercato orso come quello che stiamo vivendo in questo momento fermo restando che vi dirò anche in questo video io continuo a pensare in una ripresa di breve a momenti però poi quello è di breve appunto ragazzi poi dovremo andare incontro in ogni caso la chiusura del ciclo annuale però ragazzi questa è un super webinar super webinar gratuito registratevi nel link mi raccomando non mancate perché questo tipo di contenuti non sono creabili diciamo su youtube perché non sono così commerciali quindi sono intensi fatti di una vera formazione presenterò tra le altre cose anche tutta l'offerta relativa ai nuovi corsi di formazione che partono 2.0 ragazzi insi trading time quindi una figata che stiamo facendo delle cose veramente molto belle sempre cercando di aiutare il più possibile la community dei trader e investitori in criptovalute in italia quindi ragazzi più di questo sei e mezza domani poi il giorno dopo io volo per il crypto trading day a bologna ci vediamo con chi di voi lì dal vivo parleremo anche di queste cose quindi non mancate link in descrizione andiamo a vedere quanto riguarda il grafico e partiamo con l'analisi ciclica di bitcoin ragazzi mi metto l'occhialone così ci vedo meglio allora bitcoin ancora nella fase probabilmente del tentativo di chiudere questa struttura ciclica un po lunga un po strana c'è ci sono due cose che bisogna tenere a mente ragazzi questa fase di formazione è pericolosa perché quando il mercato è andato a creare questa struttura proprio quella che vedete in questo punto potrebbe in effetti aver anche iniziato un nuovo ciclo mensile proprio qui perché i connotati tecnici da un punto di vista ciclico ci sono quindi sono più o meno sufficienti un po tirati quindi a me non piace in questo momento questa view quindi non lo considero iniziato lì ma se dovesse essere iniziato un ciclo mensile su bitcoin su questo punto è già ribassista e la cosa si mette male ragazzi perché si scende per 20 giorni io non l'ho mai vista una cosa così in una fase di trading range penso non sia così quindi dal mio punto di vista secondo me il mercato è un po tirato verso il basso e sono più convinto che questa struttura ciclica sia ancora da chiudere probabilmente con queste tre maxi cicli da 18 17 15 giorni 20 giorni e in effetti manca ancora un pochettino fermo restando che il minimo dell'1 maggio potrebbe essere anche sufficiente per chiudere questa questa fase quindi c'è la possibilità che vi ho detto prima ragazzi la possibilità c'è però io vedo un po di più secondo me è più probabile il fatto che il mercato tenti un recupero nelle prossime giornate come vi ho detto la volta scorsa ora da qui buy the dip sul mercato no noi avevamo un buy the dip chiuso tra le altre in perdita piccolissima perché abbiamo seguito una strategia seguiamo in accademia la strategia di trading mensile con una o due operazioni al mese quindi una cosa molto semplice che ci sta portando grandissimi risultati perché siamo a 120 per cento di rendimento in un anno perché giugno chiudiamo l'anno e facciamo un 120 per cento su un mercato ragazzi bitcoin in questo caso il vsd che non ha fatto nulla da giugno dello scorso anno anzi forse è anche più giù quindi ha perso quindi grande strategia grande performance e soprattutto tranquillità perché facciamo una sola operazione l'ho fatta solo per quello quindi raggestiamo a volte va in perdita e questo mese è andato in losso ma abbiamo fatto un buon money management abbiamo perso solo il tre e mezzo per cento circa e va benissimo che veniamo comunque da grandi giornatevi di profit diciamo grandi mesi di profit però proprio in quella strategia dobbiamo inserire un nuovo ordine per il mese di maggio e ancora il buy day dip io non l'ho fatto ragazzi non l'ho posizionato poi magari mi lascio al palo vediamo magari poi però un intervento in break in breakout in qualche livello però vi dico che io ancora attendo perché il mercato potrebbe ancora andare a buttare giù qualche livello di supporto e chiudere questa fase in maniera definitiva fra qualche giorno e magari fare una cosa del genere intorno ai 36 però io continuo a vedere la possibilità che questa fase possa portare poi nei prossimi giorni ad un recupero quindi non ho fatto alcuna operazione senza che poi mi dite che ho detto che saliva io questo è quello che penso ragazzi poi però si segue il trend quindi se voi non andate a favore di trend state creando delle strategie dovete poi proteggervi quindi se io vado qui in buy day dip ragazzi è chiaro che mi proteggo con degli stop perché sono contro trend perché il mercato in questo momento fa un trend al ribasso quindi ok che io mi aspetto che il mercato viri però segnali tecnici non ce ne sono quindi è solo una questione che qui dovrebbe andare a chiudere un ciclo se lo fa sempre che non l'abbia già iniziato qui ragazzi perché se l'abbia iniziato qui siamo messi malissimo però se non l'ha iniziato lì e penso che ci sia più probabilità che inverta però poi deve darci i primi segnali già un primo segnale dovrebbe essere il superamento di questo livello 40.500 quindi fintatto che non arriva lì e mi supera le due medie mobili come ben sapete non cambia niente le mie due medie mobili che guardate che livello bellissimo che hanno di supporto resistenza quindi in questo caso supporto quando si sale e poi resistenza quando si scende quindi aspettiamo almeno di superarle prima di prendere posizione quindi analisi tecnica tutto a ribasso non dà segnali bitcoin al momento ci sono dei livelli 40.500 tenetelo a mente l'analisi ciclica ci dà più speranze che nei prossimi giorni se non è su questo minimo magari domani dopo domani il mercato possa andare a chiudere una struttura e ripartire tutto dipenderà sempre e comunque da Nasdaq 100 perché poi al di là di questo ragazzi dovremmo anche vedere dove va questa ripartenza abbiamo già diverse cripto che sono virate in cicli annuali ribassisti perché siamo nell'anno del bear market ragazzi bitcoin ancora no, ethereum ancora no, luna ancora no però tante cripto tra le quali anche CRO proprio nel giorno scorsi è virata al ribasso CRO che cavolo mi combini cripto.com non è nuova ragazzi a questi giochini cioè quello che ha fatto già altri anni prima prende una serie di pubblico retail dopodiché cambia le carte in tavola a gioco fatto a convenienza questo discorso è giusto o non giusto non è una critica a un'azienda che ovviamente ha un unico obiettivo ragazzi quello di fare profitte, inutile che ci giriamo intorno è un'azienda e l'obiettivo è fare profitto probabilmente c'era una insostenibilità di quello che sono i cashback al 3% in realtà mi sembra un po' eccessivo l'atteggiamento che si è avuto anche nei confronti di alcune delle carte quelle più top magari toglievano il cashback nella carta free e va bene ma nelle carte diciamo che sono state pagate oro e tanto tempo fa magari qualcuno tra le altre cose ha anche perso perché magari ha la ritirata da pochi giorni quindi andando a frizzare i CRO che sono crollati di una cifra insomma quindi ragazzi un loss pesantissimo allora ancora una volta non ci sono pasti gratis sul mercato però c'è anche da dire che Crypto.com anni fa ragazzi faceva un giochino quando ha cambiato le carte in tavola a un certo punto poi ha rivisto magicamente quelli che erano le diciamo i livelli che aveva indicato e li ha rivisti andandoli a risistemare perché la community aveva mal apprezzato questi che sono i cambiamenti questo giochino in termini di marketing si chiama ancoraggio cioè il fatto di andare a pubblicare una notizia a sciocco ma è quella che è uscita ieri proprio sui cashback di Crypto.com ma non solo il cashback addirittura il cap ragazzi il cashback ve lo faccio vedere perché ho riso per due giorni perché cioè per un giorno dicono che introdurranno anche vedete qui un cap sul rewards per la carta in CRO di 50 dollari neanche lo stato quando ha fatto il cashback e insomma non lo so se lo fanno poi ragazzi poi qui ovviamente con le fasi eh addirittura tolgono anche i reward della parte di CRO in staking allora a me sembra un po' un abuso quindi il solito trucchetto fatto da CRO per poi alzare poi tirare diciamo la mano indietro e quindi magari ha voluto dare una frustata all'inizio ragazzi per poi andare a sistemare magari questi livelli in maniera migliorativa così da creare non un malcontento questa tecnica si chiama ancoraggio andatevela a studiare una tecnica psicologica però nel marketing ci sta può funzionare assolutamente quindi giusto o sbagliato ci sono delle alternative la prima di tutti è Nexo sicuramente la carta di Nexo vi lascio il link in descrizione perché la sto usando e al momento 2% di cashback pulito tra le altre cose perché non c'è una change implicito non c'è un costo implicito di cambio come avviene invece su crypto.com se switchate bitcoin su la carta quindi se cambiate le crypto non se caricate euro e quindi in realtà al 2% ci sta ovviamente ragazzi anche lì dovete avere i Nexo e tutta la baradam baradam poi c'è sempre Binance con la sua carta che è vero che però anche Binance ha il cap sulla carta che è anche abbastanza basso ragazzi quindi se ne stiamo andando la vera domanda è dire se stiamo andando via dal settore crypto da questi bonus sono stati solo marketing queste aziende abbandoneranno questo mercato o ci sarà ancora concorrenza? non lo so ragazzi vedremo sicuramente crypto.com finora era leader da questo punto di vista e quindi con un cashback al 3% era fuori mercato rispetto alle competitors adesso teoricamente scende e va fuori mercato dall'altra parte cioè diventa la peggiore di tutte per questo io penso che questo sistema di rendita ragazzi venga modificato secondo me poi non vorrei sbagliarmi però per esempio prendo a riferimento questa struttura che è quella media in sostanza questo cashback all'1.5 che però è inutile visto che se mi dai un cap del 50 euro praticamente è inutile questo probabilmente sarà riportato al 2 se dovessero sistemare oh mio dio come disegno dovessero fare diciamo di nuovo quella vecchia strategia che avevano fatto un paio di anni fa e questo probabilmente verrà eliminato o comunque portato non lo so a 250 quindi o 200 dollari simile a quello di Binance ci può stare ragazzi però ovviamente insomma il forte di crypto.com era senza dubbio la carta perché rispetto ad altri servizi per esempio l'exchange non è assolutamente a livelli di quello di Binance né di altri exchange non so sicuramente non è una genialata questa cosa prenderemo come va le ultime politiche di marketing loro hanno sempre avuto ragione per il benessere della loro azienda perché poi alla fine hanno fatto più soldi quindi non gli possiamo dare torto se ragionano così c'è un motivo ragazzi allora sul CRO che cosa invece è andato a succedere? uno scatafascio ovviamente è il break del minimo del ciclo annuale questo implica teoricamente vedete la struttura del CRO quindi implica teoricamente che il CRO va in fase di ribasso fino alla fine di questo ciclo annuale ciclo annuale che però in teoria se è disegnato così se è giusto ragazzi perché ha pochi dati anche Cronos e non è facilissimo dare analisi ciclica su un solo ciclo ve lo dico quindi è un azzardo dovremmo un pochettino stare a guardare però se dovesse essere stato chiuso qui allora questo ciclo se ne va in chiusura a gennaio 2023 insomma fatevi un po' i conti voi questo significa che probabilmente assisteremo a una cosa del genere io non so mi sembra un po' un eccesso no? un dimensamento di prezzo di CRO secondo me l'azienda non lo farà accadere sono sincero mi sembra un po' un accesso ve lo dico francamente però sicuramente trend ribassista confermato il breakout del minimo del ciclo annuale se questo è il ciclo annuale non faccio operazioni su CRO avevo solo uno spread su CRO proprio creato tra Crypto.com quindi proprio tra CRO e BNB ve lo dico già proprio subito ve lo faccio vedere domani nel webinar anche questo ragazzi domani alle 6 e mezza ne parliamo e quello vabbè ha funzionato ma quella è una strategia differente in questo caso io penso che l'azienda metterà una pezza secondo me bisogna stare un po' attenti io non allora il trading si breve si ma neanche medio a questo punto su questa cripto la lasciamo perdere per un po' di tempo e vediamo che cosa fa perché la struttura ciclica annuale è troppo piccola per andare a ipotizzare chissà che cosa ragazzi non voglio dare indicazioni che poi mancano di dati perché sono un analista quantitativo quindi lo so che sto diciamo andando fuori dagli schemi perché non ci sono dati sufficienti per dirvi delle cose certo però non è che possiamo stare ad aspettare tre anni per andare a capire cosa fare quindi comunque un'idea ce la facciamo e l'idea è questa qui quella che vi sto dicendo allora aspettiamo qualche giorno per vedere intanto se crypto.com sistema un pochettino questo schiaffo che ha fatto perché altrimenti questa carta praticamente muore insieme a tutto il resto io non credo che vogliono far morire la carta quella di crypto.com mi sembra strano ragazzi vi dico francamente il fatto di andare a posizionare tutto sulle le ice le rose l'obsidiana che è 5% ci vogliono capitali immensi cioè non so capito poi non danno il cashback sul capitale cioè quindi scusate non danno la rendita secondo me rivisiteranno queste strutture ragazzi comunque fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa questione nei commenti confrontiamoci ci sta sempre ho pubblicato su twitter tante cose poi ovviamente le critiche sì 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 sono gratis se dice in gergo però bisogna pure capire che cosa c'è da fare è vero che CRO in questo caso diminuisce proprio la quantità di inflazione questo è vero ragazzi però è anche vero non serve più a niente quindi a quel punto solo DeFi e allora sulla DeFi dobbiamo andare a vedere come dove quando perché se lo usiamo solo per la DeFi allora l'azienda deve tirar fuori altri assi nella manica perché un CRO così per una carta non serve a niente quindi è vero che non è inflattivo più cioè si riduce l'inflazione perché non serve a niente e quindi che cosa è lo facciamo solo per la DeFi quindi se vogliono fare solo la DeFi ce lo dicessero e ce lo spiegano meglio e attenderei per questa questione di Crypto.com andiamo a vedere gli altri grafici partendo ovviamente da Nasdaq e poi Total Market Cap della DeFi ai livelli veramente limite ragazzi però ovvio gravissimi allora guardate qui che scivolone lingua di buyer sì o no ciclo annuale ribassista oppure chiuso qui e quindi si risale non c'è altra possibilità intanto ragazzi io questa media ben ho messa dentro qui sui grafici da gennaio del 2022 e vi dico anche dove eravamo eravamo qui ragazzi qui io da gennaio 2022 vi mostro questo grafico con questa media il breakout di questa media ha tirato giù il Nasdaq fino a livelli importanti dopodiché c'è stato un pullback perfetto sulla media in questo caso a 26 settimane ve la ribadisco cioè la media del ciclo semestrale del Nasdaq dopodiché guardate un po' voi fatemi due conti non è quello che diciamo non serve spiegare più di tanto anche perché nel passato ci sono stati anche altri livelli guardate i livelli di supporto come hanno tenuto qui proprio in base a questa media funzionerà così anche nel futuro lo scopriremo solo vivendo i mercati non sono sempre uguali però intanto usiamo quello che abbiamo visto che funziona allora Nasdaq se segue questa linea che vedete qui e quindi se ne va in pratica a fare una struttura di annuale con un semestrale che è già diventato ribassista in pratica in un mese dopodiché proverà a rimbalzare ma non ce la farà quindi seguirà questo tipo di strada e nell'ultimo video vi ho fatto vedere anche dei livelli importanti sicuramente non penso che potremmo assistere secondo me ad un cigno nero sul Nasdaq 100 questo per me è importante ve l'ho spiegato nella video andatevi a vedere quella live perché io ho risposto a questa domanda ragazzi il perché anche di natura fondamentale non è una questione di analisi grafica in questo caso quando si fa un'analisi macroeconomica bisogna ragionare così che il Nasdaq potesse scendere in maniera importante e l'avevamo analizzato invece nel precedente video quello di analisi macro dove vi ho fatto vedere il paper di Arthur Ace per farvi capire quanto era difficile il momento in questione e ovviamente ragazzi quando le analisi sono fatte con criterio al di là del giorno che oscilla perché i mercati oscilla no? poi i mercati vanno dove devono andare quindi non è una questione capatenare bisogna saperle fare le analisi non è una cosa complicata insomma da NASA però è ovviamente un po' insomma ci vuole esperienza tanti anni di esperienza valgono come mille anni di studio in questo settore ragazzi va bene allora questa è la struttura di Nasdaq non c'è alcuna situazione che ci dice che questo mercato possa rimbalzare però abbiamo 1, 2, 3, 4 settimane rosse che sono veramente brutte questa è una bella candela anche se la fa così io me la tengo così perché è una candela bastardina io lo dico sempre così queste candele piccoline così sono bastardine perché ragazzi riducono la volatilità e preparano un movimento di inversione non è sempre così però qualora si verifichi poi una cosa del genere andiamo a vedere perché io continuo a dire che se Nasdaq recupera se questo ciclo che io vi sto riportando essere un ciclo annuale ribassista magari anticipa la chiusura o poi magari fa così immaginate che fa così e poi chiude a settembre e poi risale e ci fa tre mesi di niente chi ve lo dice che non fa una cosa del genere chi ce lo dice tutti noi quindi ragazzi io insomma allora ancora la partita è aperta tutto si gioca però non si possono prendere posizioni al rialzo qui perché questo è un trend dal ribasso però si può vedere che cosa succede trader andate a nozze su questi tipi di mercati perché i mercati che oscillano in questo modo che fanno oscillazioni in barra di congestione andate a nozze guardate che abbiamo fatto qui con bitcoin su e giù su e giù su e giù su e giù io ogni giorno quando mi collego in academy ci sono i trader quelli che io ormai non riesco più a fare trading ogni giorno ovviamente sono qui sono gestendo i corsi faccio mille cose conferenze Miami e company però quelli che fanno ancora che hanno fatto i corsi sono in academy pubblicano questi screenshot dei risultati positivi siete numero uno sono fantastici io sono contentissimo però fanno 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 bene ragazzi perché hanno capito le basi hanno fatto i corsi hanno fatto il mindset eccetera però soprattutto il mercato li aiuta perché un mercato di questo tipo che sale e scende sale e scende per un trader è proprio la manna dal cielo ragazzi veramente quindi questa è la questione quindi Nasdaq qui non c'è niente da fare bisogna attendere non abbiamo nuove informazioni a meno che non valutiamo queste quattro candele come un po' eccessive andiamo a vedere la total market cap abbiamo finito per il video di oggi total market cap e ragazzi delicatissima la situazione quindi un reversal molto brutto guardate la close se vi metto la close della settimana tra le altre cose bitcoin ha fatto uno dei mesi peggiori perché vi faccio vedere anche adesso bitcoin dal punto di vista di ciclo di grafico mensile ma anche questo ragazzi guardate vi faccio vedere il grafico mensile come grafico mensile la total market cap della DeFi ha fatto ad aprile un nuovo minimo relativo a tutta questa fase guardate in chiusura quindi uno su uno giù quindi qui conferma in maniera inequivocabile l'inversione di trend iniziata da novembre su tutte le criptovalute del mondo della DeFi soprattutto le top cap poi con la diciamo riduzione che ha preso anche Kronos ovviamente sicuramente avrà subito questa questione ora il problema ha finito qui la correzione lasciate stare queste medie sono sbagliate non si possono guardare su un grafico mensile non sono fatte per quello e bisogna capire ragazzi però vedete che la struttura del ciclo annuale ancora è lunga a chiudersi questo spike è stato difficile è stato rotto il minimo in realtà di questa metà ciclica si mette male io come vi ho detto come sto dicendo sto urlando a dire la verità come sempre faccio come ho fatto nel 2018 quando ero piccolino ragazzi però tantissimi mi hanno ascoltato e per fortuna si sono riparati riparatevi questo è il discorso non è che è detto che il mercato non sale domani riprende facciamo la botta però è sbagliato ragionare con l'in in un momento in cui i grafici vi dicono che il mercato non va che c'è pericolo allora se c'è pericolo ragazzi ci buttiamo dentro il capofitto ok rischiare un discorso essere scemi è un altro quello è il discorso quindi c'è non bisogna non rischiare nei mercati perché il rischio è giusto e fa parte del gioco però è anche vero che se andiamo a investire tutto in criptovalute altcoin che stanno andando giù e insomma allora fate stock crypto crypto stock crypto picking e andate a scegliere magari quelle che hanno un trend migliore vi ho fatto milioni di video a tal riguardo per scegliere le migliori e andatelo a vedere c'è anche il corso nel corso trading crypto quello nuovo che stiamo facendo gratuito in playlist su youtube trovate un video proprio che vi aiuta quindi mi raccomando riducete l'esposizione meno volatilità non fa niente se guadagnate un po' di meno se domani andiamo a un biliardo va bene poi entrate tanto non andiamo a un miliardo da qui a un giorno va bene quindi mi raccomando proteggetevi questo è il miglior consiglio che vi posso dare non è un consiglio da investitore cioè nel senso un consiglio di investimento un consiglio del buon prato di famiglia quindi secondo me è l'unica cosa da fare se abbandoniamo i 100 billion per la total market della DeFi andiamo in un punto di non ritorno si crolla ragazzi e una cosa del genere sarebbe devastante perché molte crypto di quelle che sono nel settore della DeFi perderanno il 50% in una settimana questo è un problema ma anche un'opportunità se siete dei trader che riuscite a fare lo short selling per esempio utilizzando FTX Delta Exchange PrimeXBT quelli che usiamo sempre perché su Binance ancora non si può però se siete trader se sapete come si fa ragazzi il short selling vi proteggete dalle posizioni va bene quindi mi raccomando fate attenzione a queste cose aspettiamo se in settimana Bitcoin e Nasdaq chiudono questo ciclo e poi vediamo che succede 4-5 giorni e dobbiamo tirare le somme perché ci siamo siamo arrivati alla versione ultimo flash crash piccolino piccolino e poi si riparte vediamo ragazzi allora la ripartenza eventuale se dovesse fare una leggera fase di bassista la traderò anche io in long su Bitcoin per oggi è tutto noi ci rivediamo domani con il super webinar crypto spread trading ciao ragazzi